direttamente dalla storica sala dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma questa è l'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione di Si Vince Tutto il concorso speciale di Super Enalotto. Come sempre Si Vince Tutto Super Enalotto un suo monte premi distinto da quello di Super Enalotto che viene interamente distribuito in un'unica serata quella di estrazione fra tutti i vincitori. Per partecipare si scelgono 12 numeri e se ne devono indovinare 6 ma si vince indovinando anche solo due numeri della combinazione estratta. Ad oggi Si Vince Tutto ha già distribuito oltre 107 milioni 200 mila euro e solo nell'ultimo concorso sono stati assegnati oltre 130 mila euro. Scopriamo insieme quale cifra ha raggiunto il monte premi oggi mercoledì 17 luglio. 137 mila 349 euro. Le operazioni di estrazione sono già iniziate. Le 90 sfere numerate per la sestina vincente sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo di Amoralvia l'estrazione di Si Vince Tutto Super Enalotto. Le sfere sono scese nell'una elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo subito a scoprire il primo numero della sestina di Si Vince Tutto Super Enalotto di Oggi. Il primo numero estratto è il numero 56. Il secondo numero sta arrivando e da qui in poi si comincia a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 9. E ora siamo al terzo numero. Eccolo! Il terzo numero estratto è il numero 77. il numero 27. Via con il quarto. Il quarto numero estratto è il numero 27. È giunto il momento del quinto numero, il penultimo. Il quinto numero estratto è il numero 40. Con l'ultimo numero, la sestina vincente di questa estrazione speciale sarà completa. Il sesto numero estratto è il numero 50. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione. 56, 9, 77, 27, 40, 50. Controllate bene la vostra ricevuta di gioco perché si vince tutto super Enalotto. Questa sera distribuisce l'intero Montepremi che vale ben 137.349 euro. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti di si vince tutto super Enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 9, 27, 40, 50, 56, 77. L'estrazione di si vince tutto super Enalotto di oggi, mercoledì 17 luglio, è terminata. Fra pochi minuti scopriremo insieme come verrà distribuito l'intero Montepremi. A fra poco con si vince tutto super Enalotto. Ben ritrovati, poco fa abbiamo seguito le estrazioni dei numeri vincenti di si vince tutto super Enalotto di oggi, mercoledì 17 luglio, che vi ricordo ha messo in palio oltre 130.000 euro. Il computer ci comunica che sono state assegnate 8.273 vincite per un valore di 137.306 euro. Il 6 non è stato centrato ma sono stati premiati migliaia di vincitori. Ne sono 6, i 5 sono 4 e vincono 1167 euro ciascuno, i 4 sono 89 e vincono 126 euro ciascuno, i 3 sono 1161 e vincono 43 euro ciascuno, i 2 sono 7019 e vincono 10 euro ciascuno. Vi ringrazio per essere stati con noi, si vince tutto super Enalotto vi dà appuntamento a mercoledì prossimo 24 luglio. Arrivederci!